Musica Nuovo appuntamento con Banca e Territorio, la rubrica che accende i riflettori sul mondo del credito cooperativo ed in particolare sulla Banca di Anghiari Estia Credito Cooperativo. Oggi ci troviamo a Città di Castello al polo tecnico Franchetti Salviani con il responsabile dell'area affari della banca Daniele Cavalli perché la banca a livello di territorio non fa soltanto economia e finanza ma si occupa di tante altre cose e tra queste Daniele c'è anche il mondo dell'istruzione perché è giusto che la mission offra anche questa possibilità ai ragazzi. Allora ormai diversi anni che c'è questa collaborazione in essere con l'Istituto Franchetti Salviani che si è dimostrato sensibile all'esigenza degli studenti di integrare, affiancare alla formazione estrettamente scolastica anche qualche esperienza che viene dal mondo esterno. Tant'è che la nostra collaborazione non si limita soltanto a questi appuntamenti in aula ma è estesa anche alla possibilità di far paraffluire gli studenti che disegneranno la scuola presso i nostri uffici per un periodo di stage formativo proprio sul campo, sul posto di lavoro per durate anche 4-5 settimane. L'esperienza credo che sia reciprocamente positiva, soddisfacente. Per noi è chiaramente un ulteriore appuntamento per affermare la nostra mission che è un po' diventata la nostra attività tipica a questo punto perché il nostro stesso statuto accanto all'erogazione di servizi bancari e creditizi ordinari impone anche di essere attori della divulgazione e della promozione della cultura economico-finanziaria ma della cultura in generale nei confronti del nostro territorio. Dunque a piano titolo è un'attività tipica né più che meno di quella che viene svolta ordinatamente tutti i giorni presso i nostri sportelli. Entriamo un po' anche nello specifico. In questo appuntamento con i ragazzi del Polo Franchetti Salviani quali temi affronterai? Perché è importante far conoscere il rapporto tra la banca e l'impresa ma anche un po' far capire quella che potrà essere la concezione di banca nel futuro. Allora, certo, facendo la premessa che partiamo dal presupposto che parliamo fra addetti ai lavori perché gli studenti hanno un corso formativo perfettamente coerente con quelle che sono le discipline e le tematiche bancarie i contenuti avranno un taglio prettamente divulgativo arricchiti anche da qualche esempio concreto simulando quello che potrebbe succedere in qualunque nostro ufficio e poi con uno sguardo anche al futuro perché ormai sappiamo tutti, viviamo in un mondo dove siamo tutti interconnessi a livello globale sappiamo tutti che il mondo del credito è influenzato quotidianamente dalle potenzialità e dalle possibilità che offre il web e dunque possiamo anche provare ad accennare quello che potrebbe essere il futuro dell'attività bancaria un futuro che è già presente fra l'altro e dunque quando il lasso di tempo che questi ragazzi affronteranno professionalmente il mondo del lavoro probabilmente troveranno già un mondo diverso da quello che è quest'oggi Importante comunque sempre il riferimento con il territorio e con l'economia del territorio La forma giuridica di una banca di credito cooperativo è quella di cooperativa e dobbiamo tra virgolette elargire mutualità non solo sotto forma di servizi bancari ma in questo caso una mutualità intergenerazionale cioè cercando di valorizzare e di prendersi per quanto possiamo cura degli aspetti formativi delle nuove generazioni che saranno poi i protagonisti di questo territorio e dunque che è opportuno, importante e significativo valorizzare, coltivare e tutelare La risposta anche dei ragazzi durante questi appuntamenti com'è? Ma allora stando ai feedback di ritorno dei ragazzi è sempre molto stimolante anzi forse hanno sempre più fantasia di noi anziani nel porre le domande di rinfarsi dei quesiti e già loro sono giustamente come è giusto che sia inseriti nel mondo diciamo dell'economia digitale come ormai si sta facendo all'orizzonte e dunque per loro forse sarà anche un pochino più facile digerire le nuove tecnolità le nuovi strumenti per affrontare la loro prossima professione Con la professoressa Erika Leonardi che al pollo tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello insegna economia aziendale per capire dove nasce questo rapporto con la banca di Anghiari Estia e quello che comporta anche per i ragazzi e per la scuola Questo stretto legame che è sorto con la banca di Anghiari Estia risale al 2016-2017 a seguito di un protocollo d'intesa attraverso il quale sia l'istituzione scuola che la banca stessa hanno dato la disponibilità per la collaborazione a intrattenere dei costanti rapporti sia di alternanza riferiti sia alla scuola che al lavoro tant'è che vengono effettuati costantemente nell'arco dell'anno scolastico degli seminari di carattere relativi all'attività bancaria e a tutte le unività che si possono rilevare in questa tematica e anche degli stagi aziendali molto validi per i ragazzi in quanto i ragazzi si vedono calare nell'ambiente del territorio La finalità nostra è proprio questa di cercare di unire la formazione in aula che viene effettuata attraverso uno studio attraverso delle applicazioni anche teorico-pratiche con poi l'inserimento nel mondo del lavoro dove il ragazzo riesce sia a relazionarsi con adulti diversi da quelli che sono gli insegnanti e a relazionarsi con le varie attività effettive e pratiche relative all'attività stessa Diciamo che la banca è stata molto sensibile ad accogliere la nostra richiesta e si è resa disponibile nonostante la sensibilità della loro attività e la riservatezza della loro attività ad accogliere studenti che si sono sempre dimostrati seri anche nel rapporto con l'ambiente bancario stesso Siamo con due ragazzi che hanno effettuato lo stage anche presso la banca di Anghiere e Stia Corredito Cooperativo per capire un po' che esperienza è stata e cosa hanno appreso da quel momento Alessandro Sicuramente è un'esperienza che mi ha dato l'opportunità di capire qual è il mondo bancario da un punto di vista interno agli uffici quindi rapporti col personale, episodi anche con la gente che viene a trovarsi quindi sicuramente interessante ma lasciato un punto di vista diverso rispetto a quello che una persona può vedere dal di fuori della banca questo è importante Ricordiamo che questo è il settore, l'indirizzo economico del Polo Franchetti Salviani è chiara, la stessa cosa la chiedo a te che esperienza è stata e anche viverla dall'interno perché a scuola si fa tanta teoria e lì si vede anche la pratica Certamente è un'esperienza molto bella, molto diciamo formativa che comunque sia riesce a farci capire in particolare siamo stati seguiti con molta attenzione sono stati molto bravi, molto gentili ad averci accolto come comunque sia fossimo dei ragazzi che lavoravamo da sempre lì e cioè che dire, sono stati molto accoglienti in particolare ci hanno seguito attentamente anche quando in alcuni casi non potevano seguirci perché c'erano appuntamenti con i vari clienti ci hanno dato delle mansioni, dei piccoli compiti da svolgere autonomamente che in precedenza ci avevano poi spiegato Dal Polo Franchetti Salviani di Città di Castello alla sede centrale della Banca di Anghiari Stia Credito Cooperativo ovviamente ad Anghiari con il responsabile della Segreteria Generale Francesco Cherici perché la banca e il mondo dei giovani si incontrano in vari modi e non soltanto con i seminari quindi una parte importante riguarda le borse di studio Sì, una delle iniziative più importanti è sicuramente rappresentata dalle borse di studio si tratta infatti di una iniziativa sentita dai giovani e anche molto apprezzata dalle loro famiglie diciamo che la banca soprattutto con questa iniziativa tende a premiare il merito dei ragazzi degli studenti cioè più meritevoli la banca eroga direttamente borse di studio agli studenti soci o figli di soci della banca che abbiano conseguito con il massimo dei voti il loro diploma di licenza media oppure di scuola media superiore o il diploma di laurea la premiazione avviene tutti gli anni in occasione della tradizionale assemblea di maggio quindi la prossima è prevista appunto per il prossimo mese di maggio e tra l'altro è già stato pubblicato anche sul nostro sito il bando dell'iniziativa ma la banca diciamo collabora anche e quindi eroga indirettamente borse di studio partecipando ad analoge iniziative organizzate dai comuni del nostro territorio ricordo a questo proposito la collaborazione con il comune di Sansepolcro per quanto riguarda il premio Dionisio Roberti oppure con il comune di Anghiari per il premio Roberto Procelli o infine il premio Piero della Francesca a Monterchi nel 2018 la banca ha erogato complessivamente in tutte queste iniziative circa 18.000 euro in borse di studio premiando oltre 120 studenti si tratta sicuramente di un premio anche economico diciamo significativo, importante ma quello che mi preme sottolineare è che la banca con queste iniziative vuole soprattutto premiare il merito vuole dare un giusto riconoscimento, una gratificazione a questi studenti e in qualche modo incoraggiarli, incentivarli per proseguire con lo stesso impegno anche nella loro successiva vita formativa o nella loro attività professionale Un altro argomento importante riguarda l'alternanza una possibilità che i ragazzi possono vivere direttamente alla banca anche per capire quello che potrebbe essere il mondo del lavoro Un'altra iniziativa alla quale teniamo molto è appunto l'alternanza scuola lavoro in base ad un accordo con il liceo Città di Piero di Sansepolcro è previsto che alcuni ragazzi delle classi terze, quarte e quinte del liceo scientifico e dell'indirizzo tecnico commerciale possano svolgere un periodo, diciamo un'attività formativa presso gli uffici della banca venendo quindi direttamente a contatto con i dipendenti e prendendo dimestichezza con le principali tematiche dell'attività bancaria Si tratta chiaramente di un'iniziativa che va nella direzione di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e in qualche modo di accorciare le distanze tra la scuola distanze che sono purtroppo assai marcate tra la scuola e l'attività lavorativa Le attività che riguardano i giovani comprendono anche i corsi universitari in questo ambito cosa fa la banca? Sì, la banca ha stipulato negli anni alcune convenzioni con i principali atenei più vicini al nostro territorio, quindi con l'Università di Firenze, quella di Perugia, di Siena e di Bologna Queste convenzioni permettono agli studenti universitari soprattutto quelli degli indirizzi economico e finanziario di svolgere il proprio tirocinio presso la banca tirocinio che vale ai fini del loro curriculum universitario in questo caso viene affiancato allo studente un tutor che rappresenta l'anello di collegamento tra la banca e l'università diciamo che tutte queste iniziative vanno comunque nella direzione di accompagnare e di sostenere i giovani in tutte le fasi del loro percorso formativo www.siena e di sostenere i giovani in tutte le fasi del loro percorso